Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati a un nuovo appuntamento di Agurapenale. Come sapete, Agurapenale è la rubrica che Le Fonti dedica all'approfondimento di quelle che sono le tematiche di maggiore interesse da un punto di vista penale, anche quelle che sono più attuali. Ebbene, c'è una tematica che in realtà è sempre attuale, ormai da oltre 20 anni. Parliamo del decreto legislativo 231, tutto ciò che riguarda la compliance aziendale. Oggi però lo faremo da un punto di vista molto particolare che vi racconterò insieme al nostro ospite. Do il benvenuto a Michela Vecchi, avvocato penalista e titolare dello studio Legale Vecchi. Ben trovato, avvocato. Ben trovato anche a lei, buonasera. Avvocato, lei ci ha abituato a dare un taglio molto pratico al diritto penale, quindi anche oggi lo affronteremo proprio in questa prospettiva. Cioè quello di dare dei suggerimenti concreti su come redigere i modelli, anche eventualmente se sono spiccabili delle correzioni proprio alla redazione. Perché, come dicevo ad inizio puntata, effettivamente di modello 231 se ne parla dal 2001. Quindi parliamo di 21 anni di discorso sul modello 231, che rimane sempre attualissimo, proprio perché le perplessità delle aziende sono tante. Perché, data la sua esperienza, cos'è che continua a ostacolare un'efficace implementazione, perché le aziende continuano ad avere tanti dubbi sul modello 231? Per due ordini di ragioni. L'argomento direi che non è mai sopito per due ordini di ragioni. Una ragione di carattere giuridico, e cioè il legislatore del decreto 231 non ha codificato in positivo il contenuto dei modelli, di tal che l'individuazione del contenuto del modello è stata rimessa in parte alle associazioni di categoria, le quali hanno emesso delle linee guida che, come dire, si pongono come una sorta di normazione secondaria e in parte alle best practices di settore che sono state individuate dagli addetti ai lavori, cioè dagli avvocati e dagli operatori del diritto che si occupano di redazione dei modelli. Tutto questo però è fondamentale, il contenuto del modello, perché il contenuto del modello disegna il contenuto dell'esimente, cioè l'impresa virtuosa che adotta un modello può essere esonerata da responsabilità penale laddove i propri referenti commettano dei reati, ma il modello deve essere idoneo. Fino a che punto deve essere virtuosa un'impresa? Quali sono le regole cautelari che deve positivizzare nel modello? Dall'altro lato, il contenuto del modello va, diciamo, a toccare un principio fondamentale, e cioè l'affidamento che l'impresa deve fare. L'impresa virtuosa deve sapere, o dovrebbe sapere a priori, quali sono i contenuti di un modello idoneo che le consentano di cercare di superare la responsabilità penale che le può essere contestata laddove i propri dipendenti commettono un reato. Questa è la ragione di ordine giuridico. A questa però si affianca una ragione di ordine pratico sotto due convergenti aspetti. Il primo è che c'è stata una stratificazione convulsa e caotica da parte del legislatore nell'inserire un numero sempre maggiore di reati presupposto. Questo ha fatto sì nella prassi che a ciascuna aggiunta di un grappolo di reati presupposto, in concreto, se andasse a redigere un'ulteriore parte speciale del modello. Un grappolo di reati presupposto, reati societari, per esempio, parte speciale relativa ai reati societari. Questo ha fatto sì che le parti speciali si moltiplicassero, si decuplicassero e che ci sia sempre stata una sorta di washing, di lifting delle parti speciali del modello senza pensare a una rivisitazione sistematica di come possono essere strutturate le parti speciali. Questo ha portato a una conseguenza applicativa che il medesimo processo aziendale viene mappato 10-15 volte in ciascuna delle parti speciali. Esempio, la tenuta della contabilità. La tenuta della contabilità era definita un'area cosiddetta strumentale rispetto ai reati societari perché è chiaro che se tieni male la contabilità ciò può far sì che tu iscrivano il bilancio poste contabili inesistenti o sopravvalutate ma diviene un'area rischio diretta per i reati tributari perché se registri e utilizzi fatture per operazioni inesistenti compi il reato di cui era l'articolo 2 del decreto legislativo. Tutto ciò ha creato una ridondanza dei modelli e soprattutto delle parti speciali dei modelli che è il vero terreno di confronto che ha fatto sì che questi modelli siano difficilmente fruibili per chi li deve applicare perché se il modello non è chiaro e non è comprensibile per i referenti aziendali che lo devono applicare quello che dovrebbe essere uno strumento virtuoso si traduce in una pena il che non può essere soprattutto tenuto conto degli sforzi economici e di risorse umane che sono richieste alle imprese per adottare i modelli organizzativi. Ecco lei giustamente prima parlava di best practices ci sono anche le linee guida di Confindustria che è intervenuta insomma a gamba tesa ormai da anni proprio per queste incertezze che vivono le aziende. Secondo queste best practices e anche le ultime linee guida di Confindustria quali sarebbero i passaggi necessari per redigere correttamente un modello 231? Un doppio passaggio sempre semplifico all'ennesima potenza anzitutto è richiesta una ricognizione in fatto una radiografia una fotografia della realtà aziendale che si snoda in quattro punti e poi è richiesto di andare a sistematizzare quelle nozioni di fatto che diciamo emergono all'esito della ricognizione. La ricognizione richiede quattro punti essenziali il primo è l'esatta individuazione dei poteri secondo un magistrato famoso che si occupa da tempo molto tempo di 231 le responsabilità stanno dietro i poteri e che è vero tu devi individuare anzitutto i poteri aziendali e devi capire come funziona l'organigramma aziendale e verificare che i poteri che sono individuati siano concretamente esercitati da determinate figure al fine di verificare poi che chi spende il nome dell'azienda lo può fare in base ai poteri che sono stati attribuiti. Il secondo step della ricognizione in fatto passa per l'individuazione dei processi aziendali sensibili rispetto ai reati presupposto e qui con molta semplicità ci sono processi aziendali trasversali a tutte le aziende si pensi alla selezione assunzione, amministrazione e gestione del personale si pensi alla tenuta della contabilità si pensi al processo degli acquisti ma il valore aggiunto è andare a individuare i processi aziendali a rischio rispetto alla specifica realtà aziendale per un'azienda farmaceutica la determinazione del prezzo del farmaco piuttosto che l'ottenimento di autorizzazione all'emissione in commercio sono un processo aziendale sensibile per un'azienda edilizia tanto per fare esempi di grande attualità la realizzazione di lavori edili attraverso i bonus fiscali è sicuramente un processo aziendale a rischio specifico di quell'azienda terzo step l'individuazione delle regole cautelari io le chiamo così ma traducendo quali sono le procedure aziendali e quali sono i punti di controllo che l'azienda ha adottato per far sì che quel determinato processo aziendale venga portato avanti secondo determinate regole e l'adesione alle regole che l'azienda dà fa sì che ci sia compliance che ci sia conformità che il referente aziendale ponga in essere i propri comportamenti secondo quelle regole cautelari quei punti di controllo che l'azienda ha dettato ultimo punto infatto vedere se questi punti di controllo sono migliorabili e questo è lo scopo per cui le aziende dovrebbero redigere i modelli organizzativi questo in punto di fatto in punto diciamo dopo questa ricognizione per strutturare in concreto il modello organizzativo ormai la prassi porta a distinguere una parte generale da una parte speciale e guardate bene anche questo non c'è certamente scritto nel decreto legislativo questo è il portato applicativo di quelle best practices che da tempo si sono messe in essere che hanno portato a dire bene che ci sia una parte generale dove racconti quello che è l'azienda dove diciamo disciplini l'operato dell'organismo di vigilanza descrivi le sanzioni disciplinari che possono essere errogate se il dipendente si discosta dai contenuti del modello e disciplini principi comportamentali generali dopodiché ci sono le parti speciali e questa dal mio punto di vista è la grande impresa a tutt'oggi risolta e che si è andata vie più complicando per l'introduzione di grappoli continui di nuovi reati presupposto e per la duplicazione della mappatura dei medesimi processi aziendali in tante parti speciali io talora mi trovo a vedere dei modelli con 25 parti speciali e lei capisce che 25 parti speciali sono di difficile gestione da parte di chi li redige che tendenzialmente è una persona esperta perché o sono avvocati penalisti o sono comunque consulenti esperti in compliance e in processi aziendali ma lei pensi all'addetto all'ufficio contabilità che si ritrova a maneggiare 25 parti speciali ciascuna composta da 12 aree a rischio ti trovi un modello di 400 pagine e non sai da che parte prenderlo alzi le mani alzi le mani avvocato dalle sue parole quindi mi sembra chiaro che i modelli 2 e 3 e 1 meriterebbero decisamente una revisione nelle modalità empiriche proprio di redazione continuiamo sempre su questa scia di praticità a cui ci abituate con esempi concreti in quali parti cosa si dovrebbe rivedere secondo lei? La sistematizzazione delle parti speciali del modello io penso che le parti speciali del modello dovrebbero essere tre una dedicata ai reati contro l'ambiente una dedicata ai reati relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e una terza parte speciale che dovrebbe comprendere tutti i reati diversi da quelli che ho appena detto ambiente e sicurezza per forza dal mio punto di vista debbono continuare ad avere parti speciali autonome e dedicate perché si tratta di reati molto peculiari e si tratta di un vero microcosmo organizzativo che deve essere ricostruito in modo molto attagliato su ambiente e sicurezza tutti gli altri reati invece dal mio punto di vista ben potrebbero essere mappati in un'unica parte speciale disciplinata per processi aziendali mi spiego meglio sino ad ora la prassi applicativa più frequente è quella di fare e lo ripeto una parte speciale ciascuna per un grappolo di reati presupposto quindi parte speciale reati contro la pubblica amministrazione parte speciale reati societari parte speciale reati contro il patrimonio riciclaggio autoriciclaggio e tutto quello che ne viene parte speciale non so se l'ho già detto reati tributari ma per far capire che tante parti speciali quanti sono i grappoli dei reati presupposto all'interno di ciascuna parte speciale poi si va ad individuare un'area a rischio per esempio è un esempio nei reati tributari area a rischio ottenuta della contabilità ma questo processo aziendale lo ritrovi anche nella parte speciale sui reati societari e quindi si crea quella ridondanza di mappatura che fa sì che in generale la mappatura del rischio sia eccessivamente frammentata e che non ci sia un approccio integrato al processo di controllo del rischio per cercare di venire fuori da questa ridondanza io è un po' che seguo un criterio di mappatura differente e cioè un'unica parte speciale per tutti i reati diversi da ambiente e sicurezza così strutturata anzitutto individuo il processo aziendale e faccio un esempio sempre per essere molto concreta un esempio di un processo trasversale peraltro a tutte le aziende indipendentemente dal core business di ciascuna di queste aziende che può essere il processo relativo alla contabilità dei fornitori e alla gestione della fatturazione passiva rispetto a questo processo aziendale io individuo tutti i reati che astrattamente potrebbero essere commessi con riferimento a questo processo aziendale e ne esemplifico le modalità di realizzazione andiamo nel concreto su questo processo aziendale anzitutto la contabilità fornitori e la gestione della fatturazione passiva può costituire un'area strumentale per i reati contro la pubblica amministrazione dico cose note ma credo che sia utile comunque ripeterle per capirci nel momento in cui tu o meglio il fornitore emette una fattura per operazione parzialmente inesistente o gonfiata e tu impresa la registri nella tua contabilità e la utilizzi in dichiarazione questo fa sì che tu paghi e fai un esborso di denaro superiore alla prestazione ricevuta il fornitore ti retrocede la parte della somma in eccedenza e tu in astratto la potresti utilizzare posto che è un fondo nero per corrompere un pubblico ufficiale ecco perché si dice area strumentale nei reati contro la pubblica amministrazione ma quel medesimo processo aziendale ben può costituire il terreno fertile dove si può annudare una corruzione tra privati cosiddetta endo aziendale l'amministratore delegato offre denaro o d'utilità al responsabile dell'area amministrazione e finanza affinché non vada dagli organi di controllo della società collegio sindacale piuttosto che società di revisione a dire che in quell'azienda si registrano fatture per operazioni inesistenti ma non solo quel medesimo processo aziendale può costituire il destro per commettere il reato di induzione a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria lo stesso esempio l'amministratore delegato offre denaro o utilità responsabile dell'area amministrazione e finanza affinché costui non dica all'autorità giudiziaria a un pubblico ministero procedente che in realtà la realtà aziendale è di un certo tipo che si registrano fatture per operazioni inesistenti poi come dire registrare fatture per operazioni parzialmente o totalmente inesistenti ed utilizzarle costituisce il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti quindi reato tributario pieno ma non solo il risparmio di imposta che tu ricavi dall'esporre un costo inesistente quindi dal dedurre un costo inesistente in questo modo tu acquisisci un risparmio di spesa se tu vai a reimpiegare o reutilizzare quel risparmio di spesa così ottenuto in attività finanziarie o economiche della società commetti il reato di autoriciclaggio che è un altro reato presupposto ma non solo questo processo aziendale è come dire si espone al rischio anche del reato di riciclaggio si pensi a un caso molto semplice ma molto significativo l'azienda stringe l'accordo stiamo parlando di patologia ovviamente però nel modello tu devi dare gli strumenti per evitare tutto questo l'azienda stringe l'accordo con un soggetto terzo il quale possiede una somma di provenienza illecita affida una consulenza che in realtà non viene mai espletata e paga questa consulenza il consulente fittizio tra virgolette retrocede restituisce la somma alla società ma in questo modo ha ripulito la provenienza illecita del denaro perché potrà sempre giustificare agli occhi dei terzi che il denaro che gli possiede non è quello di provenienza illecita ma consiste nel pagamento della consulenza che costui ha prestato in favore della società ora lei vede che il medesimo processo aziendale che è quello che ci siamo detti contabilità fornitori e gestione della fatturazione passiva presta al destro a essere terreno fertile per la commissione di almeno 7-8 reati presupposto quindi anziché andare a mappare quel processo in 10 parti speciali diverse io mappo il processo e associo tutti i reati che astrettamente possono essere commessi e esemplifico le modalità di realizzazione che è fondamentale affinché il dipendente sia esso dirigente sia esso dipendente diciamo non apicale di una società capisca perché altrimenti il modello si risolve in un così in clausole di stile incomprensibili e questo è il primo step dopodiché rispetto a quel processo aziendale vai a individuare i principi di comportamento quelli che sono anche ripresi nel codice etico ma che secondo me è bene riesplodere rispetto a ciascun processo aziendale nel caso che abbiamo fatto gliene dirò due su altri c'è il divieto di fare acquisti simulati il divieto di fare acquisti che non siano giustificati da una documentazione di sostegno sia con riferimento alle merci sia con riferimento alle consulenze che l'azienda eventualmente può acquistare inserire la cosiddetta clausola 231 nei contratti di fornitura che vuol dire che il consulente o il fornitore della merce sia soggetta volontariamente al modello dell'azienda e se non lo rispetta sia soggetta anche al potere disciplinare dell'azienda sempre con riferimento a ciascuna area terzo step individuazione dei ruoli e delle responsabilità di quell'azienda specifica rispetto a quel processo l'amministratore delegato cosa fa rispetto alla fatturazione passiva il responsabile dell'area amministrazione finanza in concreto in quell'azienda quali poteri ha l'ufficio contabilità come controlla l'eseguibilità dei pagamenti e quindi se effettivamente la prestazione sia essa una fornitura di merci piuttosto che una prestazione di servizi è stata effettivamente realizzata sempre con riferimento allo specifico processo aziendale ulteriore step l'individuazione dei punti di controllo il che significa le procedure che l'azienda ha adottato quali punti di controllo mettono per evitare che reati del tipo di quelli che ci siamo detti vengano commessi con riferimento all'esempio che abbiamo fatto e vado molto veloce potrebbe essere per esempio un punto di controllo si va molto sul tecnico le restrizioni all'accesso dell'anagrafica dei fornitori piuttosto che il controllo in ordine alla corrispondenza bionivoca tra il fornitore e il codice di quel fornitore previsto nell'anagrafica piuttosto che la riconciliazione tra gli ordini di acquisto e le fatture emesse dal fornitore o dal consulente che diventano fatture passive da contabilizzare per la società e infine da ultimo l'action plan cioè quali sono i punti di miglioramento che un'azienda virtuosa può pensare di mettere in essere e i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza non genericamente intesi intesi rispetto a quel processo ad esempio laddove il responsabile dell'area amministrazione e finanza si rende conto che ci sono delle anomalie nel processo di registrazione delle fatture passive l'obbligo di comunicazione immediata nei confronti dell'organismo di vigilanza tutto questo non importa che i processi aziendali siano 10 20 o 30 ma danno l'immediata fruibilità al dipendente aziendale di come dico io gergalmente gira il fumo in azienda di quali sono i pericoli che devi evitare di quella che è la volontà della persona giuridica a cui appartieni di darti regole e principi di comportamento per evitare comportamenti non conformi se posso permettermi anche diventa fruibile dai non addetti ai lavori nel senso non tecnici giuristi perché perché un conto è partire appunto dai possibili reati presupposto e quindi il fatto di dover conoscere tutti i reati in cui io che sono componente solo di un singolo processo posso incorrere quindi per andare a ritrovare diciamo il mio operato specifico in che modo può incidere andarmi a guardare tutti quei reati un conto invece io so che faccio parte del processo contabilità mi guardo tutto il capitolo che riguarda il processo contabilità e quindi anche se non ho ben chiaro in mente quali sono i reati in cui in coro me li trovo già scritti lì efficacissimo guardi lei ha fatto una sintesi perfetta le dirò la mia esperienza sul campo io sono partita mi occupo di 2,31 da troppi anni e questo dimostra la mia età anagrafica che non è una buona cosa sono partita mappando le parti speciali per grappoli di reati quindi parte speciale reati contro la pubblica amministrazione reati societari reati tributari e chi più ne ha ne metta poi capendo che al giudice penale che deve giudicare della responsabilità degli enti poteva anche piacere questa mappatura perché è molto tecnica all'addetto al dipendente poteva non piacere per la ragione che ha detto lei perché mamma mia cosa devo studiare 25 parti speciali di cui non voglio sapere niente perché rispetto alle funzioni che io concretamente esercito in azienda non me ne voglio occupare e non me ne devo occupare e rimediavo con una seconda parte speciale strutturata non rispetto al grappolo dei reati ma per funzione aziendale il responsabile dell'area amministrazione e finanza che tipo di reati può incorrere quali sono i processi che lo vedono coinvolto e facevo questa doppia mappatura che tra l'altro era veramente complicata è molto difficile da fare e devo dire che ho avuto soddisfazioni dal punto di vista giudiziario perché c'è stata una bellissima perizia che ha riconosciuto ma parlo di molti anni fa di come fosse all'avanguardia questo modo di redigere i modelli col tempo ho detto dobbiamo semplificare ancora non è più il tempo io cerco di applicare i principi di diritto in un modo molto semplice perché facendo diritto penale di impresa so quanto ci sia la necessità di semplificare dentro le imprese per far sì che tutti questi lacci e lacciuoli giuridici diventino un valore aggiunto e non un peso e ho deciso che bisognava semplificare ulteriormente redigendo a parte ambiente sicurezza ribadisco perché devono correre una corsa autonoma tutti gli altri reati mappando per processo aziendale e unendo a quel processo tutti i reati il che però comporta una rivisitazione sistematica esante uno sforzo difficile non è che si fa in due minuti un lavoro del genere ma credo che dia i suoi frutti e non solo sotto profilo aziendale ma anche sotto un profilo giudiziario perché questa tecnica di mappatura è stata riconosciuta come idonea per lo meno da due diverse autorità giudiziarie che mi ha reso molto soddisfatta e devo dire dal mio punto di vista rende la materia anche più viva perché sappiamo che una cosa appunto è scrivere e redigere il modello 231 tutt'altro e attuarlo quindi laddove la redazione come diceva giustamente lei può essere fatta da tecnici giuristi penalisti espertissimi e quindi si scrive il modello dell'IPO però tocca alle persone che vivono l'azienda renderlo un modello vivo quindi attuarlo probabilmente quello a cui di cui abbiamo parlato finora è uno dei motivi per cui che ostacolano poi questa attuazione quindi anche modelli scritti benissimo su carta poi in fase di attuazione magari hanno dei problemi appunto operativi e cosa ne pensa penso che lei abbia perfettamente ragione ma è proprio questo è la fruibilità del destinatario il problema da salvaguardare tu puoi fare un lavoro concettualmente meraviglioso perché puoi fare un modello di 500 pagine il problema è che tu non lo fai per fare uno sforzo così inutile fino a se stesso lo fai perché l'azienda diventi sempre più virtuosa e questo è particolarmente apprezzato e deve essere apprezzato dall'imprenditore perché altrimenti questa tendenza del legislatore solo italiano mi sia consentito di aggiungere reati su reati alla rinfusa mescolando i reati dolosi colposi e in mezzo a quelli dolosi i reati che non c'entrano nulla col diritto penale di impresa e in mezzo ai reati dolosi inserisci delle varianti colpose guardi che è terribile il fatto che il riciclaggio possa essere integrato da reati presupposto del riciclaggio della 231 anche di natura colposa perché porta delle conseguenze devastanti ma ci vorrebbe una trasmissione solo su questo per parlarne quindi bisogna essere semplici bisogna far sì che le aziende che sono virtuose e che vogliono adempiere al meglio al dettato legislativo ma ne ricavino effettivamente un beneficio in termini di struttura aziendale più veloce più agile più etica quindi uno sforzo in più da parte del consulente che chiaramente è chiamato a uscire un po' fuori dal suo ruolo estremamente teorico estremamente tecnico e callarsi di più però nel business e semplificare la vita alle aziende a cui presta il suo servizio e direi che non ci potrebbe essere appunto una prospettiva migliore con cui adempiere al ruolo di consulente avvocato io la ringrazio come sempre per questo contributo prezioso che ha dato alla nostra trasmissione soprattutto per i tantissimi esempi pratici che non sono mancati e che hanno fatto capire chiaramente al nostro pubblico cosa vogliamo dire quando diciamo è il momento di cambiare la prospettiva nella redazione dei modelli 2.3.1 sperando di semplificare un po' la vita alle nostre aziende in un momento che semplice non è grazie all'avvocato Michela Vecchi grazie a lei naturalmente un grazie ai nostri telespettatori ci vediamo al prossimo appuntamento di Agora Penale buona serata